Liegi è la città dei miei nonni, dei miei parenti, miei zii. Io qui ho imparato a suonare la chitarra e mancavo da questo posto da due anni a causa della pandemia finalmente. Siamo riusciti a tornare e niente, quindi un saluto da Liegi. Il brano che vi faccio ascoltare l'ho registrato a casa dei miei nonni e niente, un saluto a tutti gli amici. Il brano che vi faccio ascoltare l'ho registrato a casa dei miei. Il brano che vi faccio ascoltare l'ho registrato a casa dei miei. Il brano che vi faccio ascoltare l'ho registrato a casa dei miei. Il brano che vi faccio ascoltare l'ho registrato a casa dei miei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.